di nuovo in diretta, 19 e 21 minuti, ben ritrovati a 56 live, questo è il nostro spazio di approfondimento che oggi dedichiamo all'economia, è stato uno dei temi, lo ricorderete, lo avrete seguito più trattati in campagna elettorale, tutti a parlare di Europa che ci guarda, di mercati, di spread ma anche di imprese che chiudono di disoccupazione, di start up, adesso però una settimana circa dall'esito così incerto delle urne che succede, ci chiederemo, solo pochi giorni fa sono stati diffusi dei dati allarmanti sulla disoccupazione nel nostro paese, dunque sull'economia reale, 3 milioni di disoccupati, decine di imprese costrette a chiudere i battenti, solo oggi un articolo per esempio apparso sull'inserto economico del Corriere della Sera rilanciava un tema che è quello della preoccupazione dell'Europa, dei mercati nei confronti della situazione politica italiana. Insomma un bel ginepraio che proviamo a districare con i nostri ospiti, saluto e ringrazio il professor Matteo Caroli, buonasera, ben trovato che è docente di economia e gestione delle imprese internazionali alla LUIS di Roma, Riccardo Pancelli, buonasera, ben ritrovato analista finanziario e chi meglio di Alessio Rossi, presidente dei giovani di un'industria, buonasera, ben trovato, ci puoi invece spiegare qual è la situazione a una settimana dal voto delle imprese del Lazio che immagino, comincio da lei, Rossi con un flash, chiedevano un interlocutore almeno con cui parlare, qualsiasi esso fosse, nel Lazio l'avete ritrovato perché la maggioranza regionale insomma è salda ma non a livello nazionale. Sicuramente sì, noi cercavamo come interlocutori della regione Lazio un'istituzione credibile, purtroppo prima non avevamo alcuni interlocutori, oggi dopo queste elezioni la regione Lazio la maggioranza è netta, salda, sembra che abbia anche le idee chiare, ha raccolto fra l'altro tutti i nostri spunti nel programma con cui si è candidato il presidente, oggi presidente Zingaretti, adesso aspettiamo che formi la sua squadra e che inizi a lavorare davvero e che si possano vedere, diciamo attuate tutte le linee programmatiche che ha già presentato. Che spunti avete offerto voi a Zingaretti che lui ha raccolto? Personalmente come giovani imprenditori abbiamo lanciato degli spunti sulle start-up, sui fondi che possano investire in queste start-up, poi il tema purtroppo dei pagamenti della pubblica amministrazione, la regione Lazio non fa eccezione, purtroppo solo nella regione Lazio le imprese vantano circa 10 miliardi di crediti verso la pubblica amministrazione e gli enti regionali che non sono pochi, ecco iniziare da questi due temi per noi già sarebbe un passo in avanti poi abbiamo chiesto ovviamente di rivedere, di organizzare e di fare dei tagli nella sanità che forma circa l'80% del bilancio regionale, quindi fondamentalmente è il bilancio regionale se non tocchiamo la sanità fondamentalmente non tocchiamo nulla della nostra regione Ed è stato il tema dell'ultima campagna elettorale, insomma anche il confronto tra Zingaretti e Storace per introdurre invece l'altro tema perché ci muoveremo su questi due piani, quello dell'economia reale quindi delle imprese, dei disoccupati e quello della credibilità, dell'immagine che l'Italia sta dando ai mercati e magari poi Pauncelli ci chiarirà meglio qual è questa fotografia a suo avviso, introduciamo questo tema, vi riassumo le ultime puntate, le ultimissime puntate di questo spread che risale, di questa Europa preoccupata, ce le riassume nella sua scheda Manuela Baldi, però commentiamo insieme Finora è andata male, ma non come ci si aspettava, il guaio è che visti i tempi e le lungaggini politiche tutte all'italiana, la situazione dei mercati può solo peggiorare e prendere la più amara delle pieghe. Se i risultati elettorali hanno da un lato scioccato gli italiani un po' per la rimonta del centrodestra, un po' per la dirompenza con cui si è imposto il Movimento 5 Stelle, dall'altro nella prima settimana post-elettorale i mercati hanno reagito lasciando per strada a Piazza Affari il 3,5% circa, con lo spread passato da 287 a 338 punti base. Poteva andare peggio, dicono gli analisti, soprattutto se si considera che si è riusciti ad evitare il tanto temuto effetto contagio a livello europeo. Niente panico insomma, e questo non può essere che un bene, ma tirare la corda dell'instabilità politica può rivelarsi molto pericoloso per l'economia italiana. In pochi ne hanno parlato negli scorsi giorni, complice il caos generale e il toto alleanze. Sono insomma lontani i tempi in cui lo spread era in apertura di tutti i quotidiani e condizionava le scelte politiche nazionali al punto da far crollare un governo in favore di un esecutivo di professori. Ma bisognerà tornare a parlarne in fretta, per evitare che la dinamica del deficit e del debito pubblico prenda una strada molto più negativa di quella attuale. Stando ai fatti, il rischio c'è. La prossima convocazione del Parlamento è prevista per il 12 di marzo, senza contare che ad oggi un'idea di come uscire dallo stato di ingovernabilità del paese ancora non c'è. Si sa, gli italiani danno il meglio di sé sotto pressione per non parlare dei partiti politici, tacciati di immobilismo in assenza del fantasma del dissesto economico. Dunque c'è chi ritiene che un peggioramento delle condizioni del mercato dettato dalla crisi politica, insieme alla forte pressione degli elettori emersa dalle urne, potrebbe essere la vera svolta. I politici sarebbero insomma chiamati ad agire in maniera radicale per evitare una soluzione greca. Dovrebbero mettere mano a riforme serie che incidano sulla buona governance del paese. Ovviamente è uno scenario da orlo del precipizio che fa paventare l'euro-rottura. Soprattutto vista la durezza con cui gli euroscettici tedeschi, fin troppo convinti di poter camminare solo sulle proprie gambe, trattano l'Italia, con input che suonano grosso modo così. Non ce la fate ad effettuare riforme che vi facciano mantenere l'euro? Bene, tornate alla lira. L'eurozona prende così le sembianze di un club privato, iperesclusivo, di cui la Germania si autoproclama butta fuori, dimenticando che senza il potere d'acquisto dei cosiddetti paesi deboli dell'Unione Europea, la supremazia economica è destinata a venire meno. Resta il fatto che la rottura dell'euro non è più un'ipotesi così remota. La società di analisi Oxford Economics infatti la dà con una probabilità del 15%, un'eventualità che non farà che aumentare in misura direttamente proporzionale al perdurare dell'on pass politica del paese. Questo riassunto e l'ultima puntata c'era anche qualche scenario possibile dentro. Pauncelli, l'ingovernabilità dell'Italia è un tema sul tavolo dell'Europa in questo momento? Beh, direi assolutamente sì. Diceva bene la scheda, poteva andare molto peggio, ma i mercati avevano già previsto un andamento elettorale simile a quello che c'è stato. Certo, nessuno poteva prevedere il MoVimento 5 Stelle che raggiungesse il MoVimento 5 Stelle il 25%, però si sapeva che sarebbe stato un risultato che avrebbe impedito sostanzialmente la formazione di un nuovo governo e tutti noi eravamo convinti che Monti andasse incontro a un disastro elettorale. Questo è stato. Di fatto quindi le operazioni per mettere in sicurezza gli asset messi a disposizione e messi in gestione, i passi sono stati fatti molto prima delle elezioni. Quindi non c'è stato nessun contraccolpo molto violento, se non una reazione il primo giorno abbastanza umorale, abbastanza... Turbolente. Niente di significativo. Poi i mercati hanno continuato nella loro ricerca di un po' di sosta della volatilità, cercando di non essere eccessivamente nervosi rispetto a ciò che leggono sui giornali e ciò che sentono in televisione, perché poi anche la stampa ci mette di suo da questo punto di vista. In effetti il Paese sta vivendo una crisi che non è soltanto politica, secondo me sta vivendo la presa di coscienza della sua inadeguatezza rispetto agli sviluppi degli ultimi 30 anni in tutto il mondo, non solo in Europa. Ci siamo svegliati e ci siamo accorti di non essere adeguati. Riguardo gli scenari politici però, ecco, preoccupa di più l'ingovernabilità di per se stessa o preoccupa più Grillo? Ma no, è ovvio che i mercati siano preoccupati soprattutto all'ingovernabilità, perché chiaro i mercati si appoggiano dove le situazioni di carattere socio-politico sono più stabili, sono più durature, sono più consolidate nel tempo. Questo spiega perché il Giappone con un debito pubblico del più del 210% del PIL è comunque un Paese che ancora vende comodamente il suo debito pubblico e ha uno Yen che è ancora fortissimo sui mercati valutari. Professor Caroli, l'Oxford Economics, lo sentivamo anche nella scheda, stima una possibilità dell'euro rottura intorno al 15%. Lei innanzitutto ritiene che questo sia uno scenario possibile, le chiedo se dovesse veramente verificarsi questo scenario per le imprese italiane, che succederebbe? Ma lo scenario è sicuramente possibile, ora 15-20% di probabilità, questi insomma sono numeri che lasciano il tempo che trovano. In realtà noi dobbiamo tener conto che abbiamo vissuto in quest'ultimo mese e mezzo di campagna elettorale in una sorta di campana di vetro, dimenticandoci i problemi, adesso i problemi strutturali, finanziari e dell'economia reale tornano pesantemente sul tappeto. E sono un problema di forte disoccupazione che, attenzione, non è solo italiano. Ricordiamo che anche l'ultimo dato che vede la disoccupazione italiana all'11,7% ci vede allineati sulla media dei paesi dell'Unione Europea 27. Quindi è un dato molto pesante ma che riguarda anche molti altri paesi europei, in particolare Spagna e Grecia. Il problema della disoccupazione ha un'origine molto semplice, il sistema delle imprese nel nostro paese, la produzione industriale di servizi nel nostro paese è fortemente penalizzata. È penalizzata da due fattori fondamentali, ormai molto chiari, che sono la pressione fiscale non più sostenibile, la pressione fiscale sulle imprese non più sostenibile, che rende praticamente impossibile qualunque investimento, accumulazione di risorse e investimenti, la pressione fiscale sulle famiglie che deprime i consumi. Quindi il tema, io credo che temono poi i mercati alla fin fine, non è tanto la governabilità grillo non grillo, è avere qualcuno che finalmente in questo paese attua delle riforme radicali dei cambiamenti di passo. Il secondo problema è la complessità normativa, la burocrazia, l'amministrazione assolutamente inadeguata alle necessità delle imprese, della produzione, del mondo del lavoro e anche su questo quindi occorrono delle azioni radicali e occorre una forte semplificazione e liberalizzazione di molti mercati. Rossi su questo punto la guardava immagino incantato perché è una delle richieste, credo che dalle imprese arriva con più insistenza. Assolutamente sì. Guardi, mi permetto, mi scusi di interrope, viene dal mondo delle imprese ma viene anche dal mondo del lavoro o almeno da quei settori del mondo del lavoro che sono in realtà più lungimiranti e che comprendono che una ripresa dell'economia reale parte da un rilancio delle condizioni del lavoro, della produzione delle imprese, dei servizi che possano tornare a essere competitivi. È interesse delle imprese, è interesse dei lavoratori, è interesse di tutto il paese. Rossi, questa campana di vetro di cui parlava il professore rischia di durare ancora un po', nel senso che in queste settimane, in questi giorni si parla e si parlerà soprattutto in politichese, quindi di alleanze, di fiducia, di temporeggiamenti eccetera. La situazione attuale delle imprese e nel Lazio e nel paese permette che si possa, fra virgolette, perdere ulteriore tempo in questi passaggi politici o veramente è il momento adesso e i dati di venerdì scorso dicono questo, di mettere mano al sistema, a riforme reali su questo settore? Probabilmente dobbiamo mettere mano qualche mese fa se non qualche anno fa. Io spero che questi signori si rendano conto che la campanella è suonata da un bel pezzo, per fortuna alcuni dei signori che hanno governato questo paese per più di vent'anni non saranno più in Parlamento, quindi non faranno più danni. Mi auguro che le persone neoelette, e questo non è un riferimento solo a Grillo e ai grillini, intervengano e prendano la situazione in mano. Noi abbiamo bisogno, come diceva prima Poncelli, di stabilità di persone serie al governo e che ci sia una prospettiva di lungo periodo, almeno di medio. Se pensiamo che tra cinque mesi qualcuno dice che si tornerà a votare, beh, mettiamoci le mani nei capelli. Qualcuno anche prima addirittura. Qualcuno anche prima, questa è una follia di tutto, abbiamo bisogno tranne di questo, abbiamo bisogno di stabilità e che si facciano riforme vere, partendo da famiglie e da imprese. Quindi, benvenga come diceva il professor Caroli prima, dobbiamo abbassare la tassazione immediatamente, ma prima ancora di questo dobbiamo restituire alle imprese quello che rispetta, cioè paghiamo i debiti dello Stato verso le imprese, abbassiamo il costo del lavoro, rivediamo la tassazione di famiglie e ridiamo fiato ai consumi. Le imprese non possono vivere solo del mercato interno, ma ci sono tante imprese che purtroppo vivono anche di quello, e quindi dobbiamo riaccenderlo. Ma è pensabile, secondo lei, vediamola da Lazio in questo caso, quindi da una delle regioni d'Italia, che ha la maggior produzione di pil, che offre anche nell'impresa un numero di posti di lavoro superiore a tante altre regioni, ma è pensabile poter pensare di poter fare impresa oggi senza l'Europa? Cioè questo scenario dell'euro rottura? Ma quello spero che sia uno scenario che non si verifichi mai, cioè io scherziamo, uscire dall'Europa, siamo seri, siamo in Europa e dobbiamo fare tutto perché questa Europa vada avanti, che ci sia una moneta unica, è una politica unica europea. Ad oggi c'è l'Unione Europea, sì, c'è la moneta unica, sì, ma ci sono tante micropolitiche all'interno. Ecco, andiamo avanti in questa Europa, non torniamo indietro, è una follia, tornare alla vira, io non lo prendo neanche in considerazione, ecco, per me è uno scherzo. fatto sta Pancelli che le urne hanno bocciato, lei aveva detto prevedibilmente il governo Monti, hanno bocciato le scelte di Monti, hanno premiato un certo euroscetticismo. Perché? E che succede soprattutto a questo punto? Ma, cosa succede? Che succede? Adesso lo chiediamo a un mano. Vorrei assistere, però perché c'è stato secondo lei quest'esito e che segnale è? È un segnale assolutamente, è un segnale assolutamente umanamente comprensibile, cioè pancia pura. La gente è andata a votare con un solo obiettivo, cambiamo tutto, mandiamoli tutti a casa, sostituiamoli con gente diversa che porti delle soluzioni. Il problema è che se continuiamo a fare politica, alimentando i conflitti sociali, se continuiamo a fare politica sulla base di slogan e se non entriamo nel merito di numeri, cifre, fatti e dati, sarà molto difficile riuscire a uscire da questa situazione. Mi spiego. Chi può non essere d'accordo con ciò che è stato detto qui, ma con ciò che si dice normalmente in giro? Chi è che può non volere un rilancio dell'economia o dei consumi? Tutti. Il problema è che rilanciare l'economia significa intervenire pesantemente su alcuni settori che o sono detenuti da lobby, oppure sono settori che impattano pesantemente sull'occupazione. Parliamo delle liberalizzazioni, tanto per essere chiaro. Non soltanto, ma quando si tratta di riduzione della spesa pubblica, nessuno può pensare che la riduzione della spesa pubblica sia solo il dimezzamento dei parlamentari o l'abbattimento delle rendite dei vitalizi di cui finora hanno goduto. L'abbattimento della spesa pubblica passa per ben altre voci. Quando parliamo di abbattimento della spesa pubblica, parliamo di settori come la sanità, per esempio, che in Italia stanno diventando intollerabili rispetto a ciò che questo paese si può permettere. E chi può permettersi politicamente di toccare l'occupazione nella sanità o dire alla gente che l'assistenza sanitaria sarà meno efficace di prima o non sarà per tutti? Chi ha la forza politica di presentarsi agli elettori per dire che bisogna fare tutti i sacrifici, indipendentemente dal città sociale, perché questa è una cosa che ha colpito 59 milioni di persone, non soltanto alcuni? Chi può permettersi politicamente di avanzare delle riforme vere? E per le riforme vere, quando si parla di sburocratizzazione, significa nient'altro che annientare l'attuale macchina organizzativa e rifarne un'altra. Quanto tempo ci vuole per farlo? Qualcuno ha fatto questi calcoli, perché se facciamo questi calcoli ci accorgiamo che noi abbiamo bisogno di qualcuno che per adesso faccia delle riforme tampone per arrivare a una pianificazione ma che deve essere condivisa. Cioè, se c'è un progetto per cambiare lo Stato, si presenti alle elezioni e chiede il voto. Non si può parlare di cambiare la situazione attuale senza dire come. Parlarne soltanto a livello di slogan è quello che i mercati non tollerano. Vogliamo vedere che cosa significa fare le riforme, di quali riforme stiamo parlando. Nessuno lo dice. Ora, lo scenario però... Io ho detto qui, prima delle elezioni, quello che è intollerabile è che in queste elezioni ai cittadini si chieda un voto senza dire con chi ci si allera dopo. Io non sto votando un governo, sto votando una parte politica che non mi dice con chi farà il governo dopo. Per cui rischio di votare PD per trovarmi col PDL, di votare PD per trovarmi con Grillo, di votare Grillo per trovarmi con tutti e due. Questa è stata una violenza nei confronti del popolo, del popolo italiano, che secondo me era intollerabile, nessuno ne ha parlato. Era normale concedere a questi signori la possibilità di andare all'elezione e dire dammi il voto poi ti dico io quello che ci faccio. Questo secondo me è inaccettabile. E in questo scenario, professore, un imprenditore cosa può e deve fare? Perché il rischio è che si vada avanti per qualche settimana, per qualche mese, appunto nell'incertezza più completa, che nessuno, ovviamente un governicchio, che fosse messo in piedi soltanto per fare determinate riforme istituzionali, non metterà a mano in questo senso l'economia reale, alla situazione delle imprese, alla situazione del lavoro, dei lavoratori, eccetera. Che può fare in questo caso? Cosa deve fare un imprenditore? Ma guardi, le rispondo con quello che concretamente accade, perché c'è un dato importante da ricordare. In questa situazione di difficoltà noi abbiamo una crescita delle esportazioni delle nostre imprese e in particolare una crescita molto forte nei mercati più lontani, nei mercati emergenti, quelli dove c'è, diciamo, maggiore domanda e maggiore potenzialità di business. Quindi la risposta alla sua domanda è, innanzitutto, le imprese si stanno orientando e stanno lottando per rafforzare la loro competitività a livello internazionale, che significa sostanzialmente due cose. puntare molto sull'innovazione, innovazione tecnologica dei propri prodotti, dei propri modelli di business e sviluppare una capacità di marketing, di saper stare sui nuovi mercati, quindi di adattare i prodotti. Quindi c'è una componente del sistema imprenditoriale che risponde a questa situazione di crisi, di incertezza nel nostro paese con un crescente orientamento internazionale. Questo, come dire, ci consola però a metà, perché evidentemente determina solo parzialmente uno sviluppo e una tenuta dell'economia interna. Anzi, è chiaro che se le imprese, come stanno facendo, dopo le esportazioni si proiettano anche a livello produttivo, internazionalmente andranno sempre più ad investire, a creare occupazione in altre aree geografiche, non in Italia. Quindi dal punto di vista dell'impresa, internazionalizzazione, apertura internazionale, recupero di produttività, nei limiti in cui questo può essere fatto autonomamente da un'impresa, quindi al netto poi delle condizioni di contesto che spesso non aiutano, investimento sul miglioramento del capitale umano, rafforzamento dimensionale. Ecco, questo del rafforzamento dimensionale è un tema su cui il sistema delle imprese, le associazioni dei produttori hanno lavorato, hanno spinto molto il tema del contratto di rete che sta decollando e che permette alle nostre imprese di superare un punto debole, di iniziare a ridurre un punto di debolezza che è quello della dimensione troppo piccola. No, sa, professore, dopo prima della seconda metà del discorso mi veniva in mente di osservare, è vero che noi italiani però nel momento di difficoltà tiriamo fuori il meglio in questo senso, perché poi questa proiettarsi su una dimensione internazionale di competitività è quello che si chiedeva alle imprese già da anni in tempi non sospetti, insomma lo stiamo facendo quando siamo con le spalle al muro. Siamo con le spalle al muro, ma lo stiamo facendo perché comunque i mercati internazionali più interessanti e non solo per le nostre imprese, per quelle francesi, per quelle tedesche, sono appunto i mercati dei cosiddetti paesi emergenti. Però il punto è che questa internazionalizzazione è positiva ma non basta. L'altro tema fondamentale è quello di tornare a rendere attrattivo il nostro paese come sede di investimenti produttivi, come un territorio dove si venga ad investire, a creare valore aggiunto, a creare occupazione. E per questo, per essere molto concreti, come auspicava il collega, sicuramente occorre lavorare sul tema della semplificazione normativa e di conseguenza del miglioramento della burocrazia. Questo è un fatto di cui si è molto parlato anche nei mesi scorsi. Sono state fatte delle proposte. È chiaro che ci sono vincoli, ci sono categorie e soggetti che possono non essere a favore. E resistenze. E resistenze. Ma qui il tema però è abbastanza semplice. La scommessa dei prossimi mesi sarà vedere se determinate forze politiche ma anche sociali, intellettuali, economiche avranno la forza di scardinare le resistenze che ci sono state in passato o meno. E su questo forse ci giocheremo veramente il futuro del nostro paese. Rossi, ma tutto questo, non so se è d'accordo con le ricette proposte dal professore, se è d'accordo però le chiedo... Sembrano le nostre, quindi va bene. Benissimo. Le chiedo se... Però quanto dipende, chiamiamola così, dalla buona volontà, dallo spirito dell'imprenditore fare tutto questo e quanto poi invece è la politica che deve darvi gli strumenti per poter fare tutto questo? La politica che strumenti deve darvi? Stante la buona volontà degli imprenditori di farlo. La buona volontà degli imprenditori a prescindere serve, è necessaria, è fondamentale. La crescita dell'esport effettivamente è corretta, il dato è in crescita, anche se crescono molto di più i paesi emergenti di quanto non l'esportazione verso i paesi dell'Europa e i paesi del nostro continente. Per quanto riguarda le crescite dimensionali, assolutamente sì, là è la volontà dell'imprenditore. Lo Stato, la burocrazia può facilitare o meno i contratti di rete, però lì ci andiamo a scontrare con la mentalità dell'imprenditore, cioè il vecchio imprenditore di 60 anni che vuole essere il padrone a casa sua e non si metterà mai insieme a un altro. Per contratto di rete si intende? Per questo nascono i contratti di rete che possono essere di filiera verticali, quindi produttivi, piuttosto che orizzontali. Questo serve per ovviare la mentalità italiana di quelle di essere soci unici della propria azienda. Per quanto riguarda il resto, invece, lo Stato ci deve aiutare, ci deve aiutare sì, senza incentivi, quantopeno non dovrebbe metterci i bastoni fra le ruote. Noi abbiamo delle situazioni di disparità all'interno del nostro paese, abbiamo una tassa che si chiama IRAP e delle addizionali regionali. La Regione Lazio ha l'aliquota massima, l'addizionale massima. Si potrebbe creare, in caso di avvenimento, diciamo, supposto dalla Rega, che è quello di lasciare la tassazione nel proprio territorio, che la Regione Lombardia possa azzerare l'IRAP. E quindi ci troveremmo con un gap di tassazione di circa un 5%. Quale sarebbe l'imprenditore che resta a Roma? Quale può essere l'imprenditore che resta nella Regione Lazio quando il suo prodotto verrebbe a costare 5% in più di quello lombardo? Pochi. Ecco, c'è una battuta che qualche imprenditore con parecchi dipendenti ha fatto è il giorno dopo che la Lombardia mi azzera l'IRAP io mi sposto in Lombardia con tutti i miei dipendenti. Tutti a Bergamo. È una battuta, però insomma rende bene l'idea. Ecco, lì ci servono le istituzioni, lì devono fare bene. Per il resto andiamo avanti con l'internazionalizzazione, sì, con ricerca, innovazione e sviluppo dei nostri processi piuttosto che dei prodotti, formazione del personale, sì, in questo momento sia le aziende e sia i dipendenti stessi da sole autonomamente fanno formazione in questi momenti sono i momenti in cui si sviluppa di più. Però purtroppo questo non è sempre, non basta solo questo qui. La crescita dimensionale è importantissima come l'aumento dei nostri capitali sociali. Molti, tra cui anche sviluppo azio ha fatto dei bandi per aumentare e far crescere il nostro capitale sociale delle aziende perché devono essere patrimonializzate, quindi benvenga, sia per un'esigenza di andare incontro a quelle che sono le esigenze bancarie perché oggi ricevere il credito anche dalle banche è più difficile per una serie di normative e quindi le aziende si devono adeguare. Troppo spesso ci sono state aziende povere che ricevevano finanziamenti. Questo è sbagliato perché questo è quello che ha portato anche alla crisi. Noi abbiamo visto troppo spesso in Italia aziende povere e famiglie ricche, famiglie degli imprenditori chiaramente ricche, non può essere più così. Adesso gli imprenditori devono tornare questo lo chiedono le banche ma anche il sistema a investire nelle proprie aziende devono essere i primi a credere nella loro attività. A proposito di incentivi e tassazioni Pancelli l'Europa ci ha chiesto e noi abbiamo detto all'Europa che insomma abbiamo imposto un certo piano di sacrifici agli italiani di cui Limo è la punta dell'iceberg forse l'imposta così più visibile che ha fatto più rumore oggi una forza politica la più votata in Italia il Movimento 5 Stelle propone il reddito di cittadinanza e servono soldi per finanziare il reddito di cittadinanza non si rischia di dare questa immagine un po' di schizofrenia all'estero di cui le parole del leader socialista tedesco che abbiamo visto scorrere prima sullo schermo mentre parlavamo che ha definito Berlusconi e Grillo due clown forse anche qui l'espressione più visibile è un po' quello che dicevo prima cioè si continua a parlare di buone intenzioni ma nessuno ci spiega come si realizzano le buone intenzioni credo sia soltanto una così una buttata populista quella del reddito di cittadinanza perché prevede non soltanto una legge per stanziarlo ma direi lo studio di una legge di stabilità per il paese che quell'anno preveda una cosa di questo genere quindi la trovo una cosa abbastanza lontana dalla realizzabilità né oggi né fra qualche annetto si potrebbe stimare quanti soldi secondo lei ci vorrebbero per fare no non ne ho idea in questa sede però più del limo insomma beh sicuramente più del gettito del limo il problema è che io ho anche assistito alla dichiarazione di otto punti programmatici del PD l'altra sera e devo dire che sono rimasto stupito perché su otto punti programmatici non ce n'era uno che parlava di sviluppo del PIL qui se ne esce soltanto con lo sviluppo del PIL se no non se ne esce più cioè nessuno può pensare che con quello che oggi l'Italia produce e fattura si possa continuare a tenere in piedi questo bagarrozzone non ci sta più in piedi cioè questo dobbiamo mettercelo in testa a tutti quindi o si guadagna di più cioè si fattura di più cioè cresce il PIL oppure così non si può rimanere qualcuno deve rinunciare a qualcosa ora se tu fai rinunciare qualcuno a qualcosa attraverso la tassazione può essere una strada si è dimostrato che comprimi l'unica cosa che ti dà una speranza che sono i consumi quindi probabilmente quello che non si è ancora fatto è togliere alle persone e alle famiglie a cui si può togliere e quindi fare una segmentazione dell'assistenza il welfare fa ripensato completamente quindi il problema non è il reddito di cittadinanza è vedere come facciano l'anno prossimo a spendere quel meno che ci consente di aderire al fiscal compact perché l'anno prossimo noi abbiamo 44 miliardi in più da pagare come riduzione automatica del ventesimo di debito pubblico abbiamo Pina se non lo pagassimo beh noi abbiamo in contrassanzioni perché è un patto che hai firmato addirittura l'abbiamo messo in costituzione dico ragazzi abbiamo fatto una cosa seria non è una sciocchezza ma che possiamo non farlo il problema è che nessuno ancora ci ha detto dove troviamo questi 44 miliardi perché a questi ci dobbiamo aggiungere i 14 miliardi in più rispetto all'anno scorso che dobbiamo considerare sugli interessi del 2012 perché le emissioni di primario che ci sono state ultimamente hanno inciso abbastanza poco per fortuna perché abbiamo messo quasi 16 miliardi non di più quindi l'aumento di mezzo punto sui decennali non ci ha ammazzato ma possiamo andare se andiamo avanti così potrebbe diventare complicato insomma se lo spread non va oltre 400 possiamo ancora sopravvivere ma dobbiamo tenerlo sotto 400 e i mercati aspetteranno fino a giugno fino a maggio-giugno a maggio-giugno se non esce fuori una soluzione secondo me corriamo il rischio di un bel problema di carattere finanziario ecco l'ultimo punto che vorrei trattare comincio dal da professor Caroli è che in questa situazione di instabilità quindi in questo tempo che necessariamente si perderà diciamo così per ridefinire l'assetto governativo istituzionale intanto fra poco scatta l'aumento di un punto di IVA tanto per per fare l'esempio e nessuno ci metterà a mano prevedibilmente perché ci vorrebbe un governo molto forte per poter tornare indietro su questo punto per le imprese che succede? comincio a lei e poi ovviamente lo chiedo anche a Rossi beh naturalmente questo determinerà un aumento dei costi dei beni intermedi delle materie prime da un lato questo per le imprese per i consumatori determinerà un aumento dei prezzi quantomeno di certi tipi dei prezzi del prodotto finale quindi in linea generale una riduzione ulteriore dei consumi evidente che quindi questo come dire sarà un ulteriore elemento negativo un ulteriore aumento della pressione fiscale e quindi torno sul sul punto che ho sostenuto prima per rimettere in moto l'economia per tornare a far crescere la produzione nazionale e quindi poter in qualche modo mantenere questo sistema occorre ridurre la pressione fiscale dove trovare le risorse per ridurre la pressione fiscale sono state diciamo le formule ci sono sono state anche elaborate dalle forze politiche presentate sono diverse adesso non è questa la sede per entrare nel merito personalmente ritengo quindi che le modalità per trovare le risorse per ridurre la pressione fiscale ci sono sono di segno diverso a seconda della della visione politica evidentemente ma ci sono o comunque si devono trovare perché se non riduciamo la pressione fiscale sulle imprese da un lato e sul lavoro sulle famiglie dall'altro quel processo di ripresa della produzione del PIR nel nostro paese non partirà le imprese migliori e le persone migliori andranno altrove attenzione perché io lo vedo dal mio osservatorio dell'università una quota crescente dei nostri studenti migliori ormai cercano di completare il loro percorso formativo a livello internazionale il che è un dato positivo perché si è sempre detto dobbiamo favorire l'internazionalizzazione dei nostri giovani a patto che tornino è chiaro però che se noi non creiamo ancora una volta condizioni interessanti attrattive nel nostro nel nostro paese per tornare anche a livello di persone un giovane a 30 anni che si sarà formato e sarà eccellente a livello internazionale non avrà più interesse però il reddito di cittadinanza per esempio proposto da Grillo va nel senso opposto a quello che dite voi perché è sì magari la boccata d'ossigeno per i consumatori in questo senso per avere qualche soldo in tasca in più ma non è ovviamente una cosa tampone ma non strutturale vede il reddito di cittadinanza è un tema che si avvicina ai modelli di welfare dei paesi scandinavi dove c'è un mercato del lavoro molto molto flessibile questo è un altro tema fondamentale noi dobbiamo rendere massimamente flessibile il mondo del lavoro perché il sistema produttivo internazionale lo richiede prendendoci cura delle persone quando si trovano in una situazione di difficoltà il dato di oggi anche sul sole 24 ore c'è una quota crescente di persone che escono nel mondo del lavoro laureati intorno ai 50 anni quindi persone con famiglie con redditi medio addirittura medio alti che si trovano abbastanza improvvisamente senza lavoro queste persone vanno sostenute perché sono troppo lontane dalla pensione ecco questo è un tema rispetto che va però di pari passo con il fatto che la possibilità di entrare e uscire dall'impresa dall'occupazione è molto più rapida molto più dinamica e quindi questo rende più attrattivo peraltro l'investimento spinge sul capitale umano spinge le imprese ad assumere quando è necessario perché sanno che possono poi anche modificare la struttura del loro capitale umano quando si trovano in difficoltà o anche semplicemente quando cambia il mercato io so di molte imprese che hanno una grossa difficoltà nel nostro paese perché dicono io oggi assumo 10 ingegneri con certe caratteristiche tra due anni il mio business cambia ho sempre bisogno di 10 ingegneri ma con caratteristiche diverse allora devo poter come dire collocare altrove quei 10 per poterne prendere altri 10 questo da noi è semplicemente impossibile oppure formarli oppure formarli però ecco quindi questo è il tema fondamentale e a questo punto il sussidio di cittadinanza o il sussidio di disoccupazione chiamiamolo come vogliamo diventa uno strumento fondamentale per tener conto del problema umano e sociale ma verrebbe che lo scusate professore siamo in chiusura e volevo da Rossi una chiusura su l'aumento del punto di IVA che è il primo scoglio che vi trovate a affrontare che fate a giugno sicuramente sarà difficile scongiurare questo aumento di un punto di IVA la fine del percorso è che i consumi diminuiranno ancora quindi ne pagheranno le conseguenze le aziende i lavoratori e tutti i cittadini italiani quindi sarebbe da scongiurare sinceramente le risorse si possono trovare che ci sono ma vanno trovate andrebbero trovate non è una cosa immediata né lo spreco lo spreco della macchina pubblica per la spesa pubblica non intendiamo solo i lavoratori dello Stato intendiamo quanto costano le strutture statali è quello il grande il grande spreco che c'è questo è incredibile andiamo lì tagliamo un po' di spreco e rifacciamo partire l'economia pagando immediatamente le imprese tagliando il costo del lavoro il cuno fiscale il risparmio che viene dal cuno fiscale lo distribuiamo metà ai lavoratori e metà alle imprese così faremo ripartire i consumi e le aziende Concelli le avrei voluto chiedere la luce in fondo al tunnel qualcuno diceva addirittura alla fine del 2013 ma purtroppo è un tema troppo ampio non abbiamo più tempo grazie grazie a voi Riccardo Concelli analista finanziario professor Matteo Caroli docente alla LUIS di Roma Alessio Rossi grazie presidente dei giovani di un'industria ci fermiamo per qualche istante e rientro alla nostra rubrica dedicata al teatro con Armando Fioretti grazie a tutti grazie a tutti